Quale complimenti fate agli animatori di mezzo? E tu quale complimenti fai? Sono bravi o no? Chi è che ha detto prima che vi comprano il gelato? Edoardo, vieni qua a dirci quale complimenti fai agli animatori? Allora, io uso Giacomo perché ci offre sempre i gelati e gli fa davvero. Ma soprattutto perché è molto simpatico e ci fa divertire. Però alcune volte è troppo impegnato col lavoro e non sta bene. E tu che dici? Ah, tu dici un rimprovero che fareste io e mezzo? Devo faresti un rimprovero? Cioè da rimproverargli qualcosa? Ma io non farei nessun rimprovero perché è sempre disponibile come unicolo. E si dedica sempre del tempo. E quindi chi rimproverà? Ah, ci sono anche i due assistenti bagnanti che potete rimproverare. Io sì. E l'altro. Anch'io. Come amare? Perché non ci fanno fare i tuffi. È vero. È vero. Va bene. Allora questo è il rimprovero. Mariana, dici anche te a quei bambini che si possono fare i tuffi. E stasera? Stasera preferite andare a fare una passeggiata a questo luogo o a rimanere qui a giocare con gli animatori media? A che caso ci fate stasera? A lanciare i rovettori. Oh, è presto. Per agosto. Ma perché è media? Perché loro sono animatori media. Guarda cosa c'è scritto qua. Media. Media. Tutti. Quindi rimanete qui? Sì. Con Mariana e Giacomo? Bene. E l'anno prossimo che facciamo? E li richiamiamo? Sì. Allora. Oggi finisce. No, finisce alla fine di agosto. Però io adesso voglio che perché tornino gli animatori media per l'anno prossimo. Vecchietti insieme mi dovete dire che l'anno prossimo rivegliamo gli animatori media per l'anno prossimo. Dai, pronti? Uno, due, tre. L'anno prossimo vogliamo gli animatori media per l'anno prossimo. Benissimo, grazie ragazzi. Molto simpatici. Grazie a tutti. Grazie davvero.